Luca, perché questa festa? È una festa per concludere alla grande, in un modo speciale, due mesi di una grande avventura che è il Centro Estivo. Due mesi fatti di laboratori, di mare, di piscina, di allegria, di incontri speciali, di racconti, di libri, di film, ma soprattutto di grandi amicizie. E penso che la cosa più bella che può restare a ogni bambino saranno le amicizie che hanno vissuto qui al Centro Estivo, amicizie tra di loro, con gli animatori, con gli adulti. E oggi, ecco, celebriamo la conclusione del Centro Estivo dopo due mesi, proprio, ecco, allargando questo cerchio e abbracciando anche papà e mamma e fratelli, quindi festeggeremo ringraziando loro e raccontando ciò che di bella abbiamo vissuto. Perché non avete fatto la festa al vostro centro e l'avete fatta qui al Parco di Pitagora? Allora, perché? Per due motivi. Il primo perché siamo tantissimi oggi, perché oggi abbiamo voluto regalare questa giornata anche ai bambini che non sono in questo momento iscritti. Qui sono tornati quelli che hanno magari fatto un giorno soltanto, quelli che non sono potuti venire tutto l'anno. Abbiamo dovuto dare un giorno speciale per tutti, quindi i bambini sono tantissimi, perché durante i due mesi sono stati quasi più di 80 i bambini che sono venuti in tempi diversi. E poi perché il nostro Centro Estivo è davvero un campo itinerante, perché abbiamo fatto scoprire ai bambini tanti luoghi speciali di questo nostro territorio, sicuramente difficile, ma che custodisce anche magari qualche perla da scoprire. Siamo stati a scoprire la pet therapy con gli asinelli, siamo stati a scoprire oggi questo parco, il Museo di Pitagora, siamo stati a scoprire anche alcuni camping, la natura, il verde, dei luoghi che magari non conoscevano, le castella. Ecco perché oggi siamo anche qua.